Siamo qua al circuito del Mugello con il pilota Michael Carbonera che sta per iniziare la gara, come la vedi questa gara? Sarà una gara molto complicata perché le condizioni sicuramente sono difficili, però noi ci impegniamo, cerchiamo di fare il massimo e niente dai, vediamo un po' quello che succede. Grazie a tutti e grazie a piccole per essere qui con me. Ciao a tutti! Forza Carbo! Ma volevo dire solo Forza Carbo! Forza Carbo! Buonissimo Carbo! Forza 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 Carbo! Grazie.